Sofia, hai appena visto il film, come è stato? Sì, è meraviglioso James, veramente stupendo, mi ha colpito veramente nel profondo, non un filmetto così, veramente mi ha toccato. Ok, un saluto dalla sceneggiatrice Eugine Ruzzante, la scenografa Sofia Papa, l'edito regia Filippo e assolutamente da James Toso, il regista del film.